26-34 anni, sono ancora giovani, sono ancora giovani, partiamo con la ottava concorrente Sara D'Ascanio, 26 anni, di sezze, è una setina, sposata con due figli, così giovane, è parutiera, mentire che per lei è una grande passione Ok, Sara D'Ascanio si accomoda e passiamo alla prossima Alla prossima che è Angela Lamesi, 26 anni, di Priverno, sposata con una figlia e lavora come segretaria Adora viaggiare, adora viaggiare, solo lei adora viaggiare Complimenti, complimenti Si vuol dire per la carrozzeria? Quando c'è voce, scusate Passiamo alla decima concorrente che è Anna Morelli, 34 anni, di Latina 34 anni di Latina, sposata con un figlio anche lei, Gabriele, si chiama, lavora come impiegata nel tempo libero, ama leggere Correre ed andare in bicicletta Siamo alla decima, Anna Morelli, di 34 anni, complimenti Anna E poi session con Sara D'Ascanio Sara D'Ascanio Angela Lamesi Angela Lamesi Angela Lamesi Ed Anna Morelli Eccole qui, sono tre della categoria Fashion E passa alla finale Anna Morelli Anna Morelli Complimenti Anche un premio di consolazione per le altre due ragazze Grazie a tutti